in questa costituzione c'è dentro tutta la nostra storia le nostre gioie e i nostri dolori sono tutti sfociati qui in questi articoli e a saper intendere si sentono dentro delle voci lontane tante umili voci quanto sangue quanto dolore per arrivare a questa costituzione dietro ogni articolo dovete vedere uomini e donne come voi caduti combattendo fucilati impiccati torturati morti distenti nei campi di concentramento morti per le strade di milano per le strade di firenze che hanno dato la vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta questa carta è un testamento lasciato da tutti questi morti se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove nata la nostra costituzione andate sulle montagne dove caddero i partigiani nelle carceri dove furono imprigionati nei campi dove furono impiccati dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione